si vedrà il colore? vabbè hola, ciao, sono tornata è un po' un'emozione perché è da tantissimo tantissimo che non giro video perché appunto sono stata via quasi un mesetto e questo è il risultato sì, mi sono abbronzata, sono contenta adesso già inizia un po' a schiarire diciamo così perché ovviamente sono tornata al freddo e al gelo ma neanche più di tanto e niente, sono arrivata dal Messico per chi vedesse per la prima volta un mio video e si stupisse della mia abbronzatura dall'altra parte del mondo e là faceva caldissimo, era estate fantastico, magari poi, anzi senza il magari sicuramente vi farò poi presto un video dove vi racconterò un po' di come è andata quello che ho vissuto, quello che ho visto sarà lunghissimo, preparatevi come questo penso perché ho tante cose da dirvi e in questo caso da mostrarvi perché è un video haul il video di tutto quello che ho comprato nelle mie vacanze nel mio viaggio di nozze non c'è tantissimissimo perché, come vi avevo già detto non sono andata là per fare shopping o acquisti ma più che altro per visitare il paese e portarmi a casa giusto qualche ricordino qualcosina di tipico come piace a me la voce è un po' così ora ho abbastanza carica sono abbastanza felice ma fino a mezz'oretta fa non stavo benissimo proprio perché essendo arrivata da poco il fuso ha fatto il suo brutto lavoro e quindi non mi sento molto bene al mattino mi sveglio male fatico ad addormentarmi mentre là stranamente non ho avuto mai problemi di adattamento al fuso visto che c'erano sette ore di differenza in meno però adesso che sono tornata veramente la trovo molto molto dura molto faticosa poi sono un po' nel mio periodo quindi aggiungiamo anche quella pesantezza non sto benissimo però è andata tutto benissimo e appunto vi racconterò bando alle ciance vi mostro subito quello che mi sono portata a casa essendo una super patita di foto e ogni volta che vado in vacanza lo compro ho preso questo portafoto tipico con scritto Riviera Maya fatto in resina non c'è vetro vabbè pazienza è fatto così ed è molto carino perché ha l'appoggio sempre in resina mi piace un sacco adesso quando riuscirò a sistemare tutte le mille mila foto cercherò quella più adatta e la metterò qua non vedo l'ora io veramente ogni volta che vado in vacanza mi devo sempre portare a casa un portafoto dove metto poi una foto ricordo appunto del momento io sono un po' così questo è un regalino che mi ha fatto Jumpy è un ciondolino fatto in marmorosa a forma di cuoricino e ha la collanina che si regola quindi si può decidere se farla più stretta più lunga molto molto carina l'ho usata molto là adesso direi che non è molto stagione da questo aspetteremo la primavera e l'estate cartoline sì le ho portate a casa perché ho visto che se le dovevo spedire ci mettevano da uno a tre mesi praticamente adesso siamo a Natale a Pasqua arrivavano e non mi piaceva sì è carino riceverla per posta perché hai anche il francobollo del luogo il timbro tutte queste cosine qua però poi mi sono detta facciamo così che si fa prima e poi la gente vuole subito la cartolina e allora voilà vi mostro alcune immagini questo è Ushmal poi c'è Cicenizza ma vi mostrerò alcune foto magari vi farò poi un video sulle foto più belle non lo so devo ancora organizzarmi sono appena arrivata sono ancora abbastanza entusiasta per arricchire la mia collezione di magneti mi sono presa questo qua sempre con la faccia maia con in questo caso il serpente c'è ancora il prezzo dietro se mi interessa costava 20 pesos questo qua è un ciondolino davvero molto carino sì il simbolo non è che sia carinissimo però è il mio simbolo perché siamo andati adesso non mi ricordo dove eravamo però in un sito e c'erano questi venditori ambulanti che però erano un po' diversi dal solito perché creavano con le loro manine alcuni oggetti artigianali questo è uno dei tanti ed è un ciondolino fatto in pietra con il simbolo del mio segno zodiacale loro per quanto riguarda lo zodiaco hanno delle date leggermente diverse dalle nostre per farvi capire questo qua mi è stato dato appunto dal venditore e è stato carinissimo perché mi ha dato una mappa appunto dello zodiaco quindi se volete sapere che segno siete qua si può vedere io sono zoz dal 10 ottobre al 29 ottobre io sono andata il 29 ottobre quindi l'ultimo giorno e dice che è la creatura della notte dominante direi che è abbastanza giusto come segno infatti questo qui è il simbolino rimanendo in tema zodiaco il calendario maya non potevo non prendere il calendario maya fatto su questa pelle anche questa in modo artigianale ed è molto molto carina abbiamo preso questa misura qui perché era una misura media quella piccola era troppo piccola quella grande non dico che era troppo grande anzi mi piaceva tantissimo però c'era abbastanza differenza di prezzo e allora abbiamo preso questa qua ma va benissimo adesso poi vedremo di incorniciarla e trovare un posto e sarà abbastanza complicato perché abbiamo le pareti quasi tutte piede quindi sarà un attimo difficile ma ce la possiamo fare e per concludere il calendario maya ho preso anche il ciondolino eccolo qua questo qua è fatto in argento firmato qua e mi piace tantissimo perché non l'ho pagato tanto ed è una dimensione direi abbastanza grande sono soddisfatta adesso da quando l'ho comprato ce l'ho sempre addosso appunto essendo in argento va benissimo perché non si rovina anzi più si indossano più diventano belli perché rimangono belli lucidi ah ho trovato un corallo che non si doveva portare via ma per la dimensione direi che non è che abbia fatto chissà che danni scusami messico ma non potevo non tornare a casa con un mini corallino e sempre sulla spiaggia ho trovato questa conchiglietta questa parte di conchiglia con la madre perla dentro davvero fantastica ne ho trovata anche un'altra sinceramente ma l'ho lasciata sotto perché l'ho pulita perché sapeva ancora di mare però si ho preso anche due conchiglie l'altra è proprio intera una parte molto molto carina ah ecco mi ero dimenticata sempre tornando al discorso del calendario Maya che ci siamo fatti fare questo ora ve lo mostro anche questo sempre da un artigiano perché se non sono cose vere non ci piacciono c'erano tante cose fasulle tra virgolette nel senso che dicevano che alcuni oggetti erano fatti in legno invece non era vero cercavano un po' di ingannare il turista ma noi siamo stati fortunatissimi perché abbiamo avuto due guide locali e ci hanno consigliato davvero i posti giusti le persone giuste e sono contentissima io ero contraria a fare le visite guidate ma vi assicuro che farla con la guida locale è davvero utile anche per scoprire degli aneddoti particolari delle cose un po' diverse da quelle che pensiamo di conoscere che poi non sono così ve lo racconterò poi nel video dedicato al Messico comunque ci siamo fatti fare l'oroscopo lunare Maya per quanto riguarda nello specifico la data del matrimonio visto che siamo andati in viaggio di nozze non potevamo non scegliere questa data potevamo anche scegliere la data del nostro compleanno una data particolare ma più particolare di questa non c'era quindi qua c'è tutto lo spiegone del nostro oroscopo del giorno è davvero azzeccato secondo me e qui abbiamo il certificato sia in italiano ecco vedete sono passati 615 giorni dal 23 dicembre del 2012 che è l'inizio dell'era Maya 6 qui è scritto in lingua Maya e qua un nuovo spiegone davvero molto carino però non è finito qua perché ci hanno fatto anche il dipinto del nostro giorno vabbè ve lo stacco di qua fatto su carta pergamena ed è fantastico guardate è tutto dipinto a mano con colori naturali ci hanno fatto vedere che hanno preso dei frutti particolari che hanno questi colori belli accesi gli stessi colori che utilizzavano appunto i Maya nell'era che fu davvero molto molto bello io amo queste cose queste parti di storia e sono contentissima anche questo sarà poi incorniciato avremo abbastanza pareti dedicate ai Maya al Messico però appunto anche perché oltre ad amare il paese è stata anche la meta del viaggio di nozze per me è una cosa importantissima e quindi tutta la casa sarà tappezzata di quadri quadretti oggettini varie cose che avete visto adesso e vedrete dopo perché ci sono altri oggettini che abbiamo preso nel villaggio in cui siamo stati visto che sapevano che eravamo in viaggio di nozze ci hanno regalato un ingrandimento di una foto e tra le tante che ci hanno fatto ce ne hanno fatte tipo un centinaio abbiamo scelto questa qua fantastica guardate che meraviglia era quel mar dei caraibi ok basta anche questa sarà incorniciata dovremmo comprare una cornice apposita perché quella che ho comprato io è abbastanza piccolina cioè è un formato normale questa è grande e rimanendo in tema villaggio ci hanno fatto anche le magliette a me hanno fatto questo color marrone a lui bianco adesso non so se era un caso avevano solo quelle perché c'erano le taglie americane io ho preso la S però è bella abbondante spero di riuscire a metterla perché è una magliettina che penso di utilizzare in palestra comunque fatta così con i due innamorati vabbè ve la apro l'avevo stirata ma vabbè e dietro c'era appunto scritto Catalonia che era il villaggio in cui eravamo On a Moon stessa cosa sotto l'immagine è un pensiero che ho trovato davvero molto carino molto simpatico e poi ora vi mostro perché c'è un altro sacchettone allora da mangiare abbiamo preso i platani col sale tipo patatine di banana costate niente 15 peso che adesso saranno pochi centesimi i calcoli li facevo fare al marito perché io acquistavo e basta per quanto riguarda schifezzine non potevo non prendere i nachos questi qua possono sembrare quelli che mangiamo noi però se notate sono leggermente più spesse e di colorazione diversa perché hanno un gusto completamente diverso da quelle che mangiamo noi davvero io la prima volta che lo assaggiate un po' lo immaginavo perché comunque come da noi il cinese non è come in Cina il messicano non è come in Messico e infatti il gusto di queste patatine è davvero buonissimo ancora di più io le ho sempre amate però una volta che sei nel luogo in cui nascono ti rendi conto che sì sono eccezionali hanno un gusto molto più leggero di quello che conosciamo noi sono molto meno fritte hanno proprio un gusto più di mais più di non lo so non so spiegarvelo però davvero ho trovato una cosa completamente diversa come le tortillas che fatte in un certo modo la non mi piacevano ma qui vi mostro solo quello che ho preso poi nel video del Messico cercherò di parlarvi un po' di tutto e magari lo farò in più puntate perché se parlo sempre così finiamo domani da mangiare avevo preso anche altre cose queste noccioline che però là sono diverse e allora le ho prese le fave di cacao famosissimo il cioccolato il cacao del Messico allora abbiamo preso queste fave che sono fantastiche praticamente sembrano tipo delle noccioline perché bisogna sbucciarle e dentro c'è il cuore di cacao una roba fantastica bella gustosa e per chi ama il cioccolato come me chi ama anche il gusto forte il gusto dark queste sono una bomba poi un po' di scorta di barrette di cioccolato queste qua sono quelle dark mentre queste qua quelle al peperoncino visto che il Messico è famoso per le sue palme che producono la gomma ho deciso di prendere le vere gomme da masticare le cicla o cicle cicles ho anche scoperto che noi qua in Piemonte diciamo gomma da masticare cicles e deriva dalla gomma messicana quella che una volta veniva masticata dai maia e veniva anche utilizzata sulle ferite per cercare di guarigirle di lenire un po' il dolore allora le abbiamo prese subito queste sono davvero quelle originali al gusto un po' mentolato come piace a noi non so se le proverò sì penso che una la proverò però volevo tenerle anche così come ricordo poi sì andranno a male però è più un ricordo anche di certe cose che abbiamo visto là di certi momenti poi vabbè volevo provare delle gomme normali ho preso queste qua e tornando ai souvenir ai veri oggetti di artigianato abbiamo preso questa carinissima maschera incisa da un ceppo intero di legno e colorata sempre con quei frutti che vi dicevo prima che hanno appunto queste belle colorazioni accese molto molto carina sì forse un po' inquietante però è molto tipica e mi piaceva un sacco questa l'abbiamo presa a Cicenizza ed è stato il primo sito che abbiamo visitato e abbiamo voluto prendere quella con appunto la piramide qua c'erano varie versioni quelle con il giaguaro quella con il serpente con la tartaruga però abbiamo scelto questa proprio perché essendo stati lì la prima visita la prima piramide allora questo è il ricordo numero uno molto carina che poi appenderemo non si sa dove e ultimi due oggettini questi sono stati fatti con il frutto della palma non il cocco ma il frutto che sembra una noce un po' più grande al cui interno c'è l'olio di cocco che serve sia per cucinare o quello che utilizziamo noi sia per carburare allora il primo oggettino che ho preso è questa capannina qua che è la tipica casa Maya alcuni Maya sì perché i Maya esistono ancora vi racconterò nel video dedicato appunto al Messico vivono ancora in queste capanne noi siamo andati a visitarne una poi vi mostrerò le foto e sono davvero molto particolari molto anche strano pensare che c'è della gente che ancora vive lì dentro e vive anche bene forse è meglio di noi sicuramente meglio di noi e quindi questo è stato un super oggettino che mi ricorderà tantissimo questa bellissima esperienza e vedete all'interno c'era l'olio hanno proprio inciso e creato con una noce questa cosina fantastica stessa cosa per quanto riguarda due ma me ne mostro uno questi orecchini vedete l'interno della noce è fatto così sono molto originali molto carini molto leggeri e sì questi si mettono al mare vabbè adesso ho il pendaglio però vedete sono carini sono un po' particolari una cosina che non tutti hanno e sapete che io amo quello che pochi eletti possiedono perché mi piace essere un po' originale un po' diversa dalla massa anche se poi alcune cose le prendo anche io e voilà qui ci sono tutti gli acquisti che abbiamo fatto no scherzavo non tutti gli acquisti perché abbiamo anche preso delle salsine chili l'olio piccante e il peperoncino abanero però non quello intero perché non si può assolutamente portare via come neanche i semi però abbiamo preso la polvere ed è un qualcosa di super mega piccantissimo e veramente se non lo provate non potete capire noi pensiamo che magari il peperoncino quello calabrese quello che abbiamo al sud è bello tosto no labanero è molto più tosto molto più strong per palati belli yeah comunque vabbè non ve li ho mostrati perché tanto sono delle salsine delle polverine che vabbè ve l'ho detto e anche la tequila che è la bevanda proprio assoluta del messico però non mi piace l'abbiamo presa più che altro così per quando invitiamo qualcuno a cena poi vabbè il ricordo che è la cosa principale per me però così ma non mi piace non mi piace scusate se voi l'amate ma io assolutamente no preferisco i digestivi quelli alle erbe dei gusti un po' più soft se così si può definire nulla questo è stato tutto spero che questo video vi sia piaciuto sono contenta di essere tornata adesso devo un attimo riprendermi appunto come vi dicevo la mia salute deve un attimo assestarsi perché è leggermente scossa devo trovare il tempo di sistemare assolutamente tutte le foto tutti i video perché appunto a breve spero vedrete i vari vlog che abbiamo girato non aspettatevi chissà che vlog perché sono forse più che altro documentari sulle piramide sui siti che abbiamo visitato avevo poco da dire ma tanto da mostrare ci vorrà tempo perché devo scaricarle nell'hard disk ricaricarle sul macbook creare i vari editing quindi non aspettateli subito ma datemi il tempo perché ci vuole tanto tanto tempo se oggi mi sono un po' sbracciata per voi perché a parte che ho caldo sarà che mi sono tenuta la temperatura del messico ma ho caldo sto bene i termos sono anche spenti va bene così però anche per mostrarvi ovviamente il mio colorito che penso sparirà presto vi ho documentato subito il mio colore nulla questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao